Presidente del Consiglio, ormai noi siamo rassegnati. Le dico siamo rassegnati perché pensare di entrare nel merito delle discussioni con lei ci sembra ormai un affare impossibile. Le comunico che con qualche mimica facciale da sitcom e con qualche promessa che viene rimandata sempre di anno in anno non si risolvono i problemi del Paese e lei non riacquisisce credibilità agli occhi dei cittadini di questo stesso Paese. Presidente del Consiglio, voi siete riusciti perfino a mentire con un abile gioco, questo si lo ammetto, sul reale tasso di disoccupazione del Paese. Avendo liberalizzato di fatto i voucher, voi avete fatto scendere, e questi sono i dati forniti dal Ministro del Lavoro Paoletti, di più di due punti percentuali il tasso di disoccupazione. Voi considerate occupati chi guadagna 28 euro netti al mese. In realtà noi stiamo parlando di una disoccupazione del Paese che supera il 13,5%. In tutto questo contesto lei non combatte con l'Europa per avere maggiore flessibilità, per dare risposte al dramma della disoccupazione del Paese, ma lei chiede all'Europa flessibilità per accogliere un maggior numero di clandestini. Lei sta indebitando il Paese e i cittadini di questo Paese per accogliere più clandestini. Lei dovrebbe chiedere all'Europa di andare a controllare realmente i confini e a procedere ai rispingimenti e ai rimpatri. Evidentemente il business miliardario che continua a produrre l'affare dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese le fa continuare a portare avanti una politica che dice porte aperte maggiori risorse per COP e associazioni. Presidente del Consiglio, il problema non è investire sulla percezione dell'Europa, ma il problema è che lei ci racconti quali investimenti sono stati fatti da JP Morgan in MPS, qual è il rapporto di Carrai con JP Morgan, che finanziamenti hanno dato JP Morgan e società controllate da JP Morgan alle fondazioni nel nostro Paese. Questo sarebbe interessante scoprire nel Paese. Ci interesserebbe scoprire quali sono i rapporti fra i membri del governo che lei presiede e Banca di Etruria. Questo sarebbe interessante sapere. Ci interesserebbe sapere come è possibile che il ministro Padoan venga ieri in commissione bilancio certificando un buco di 7 miliardi e 250 milioni che non ci sa dire come coprirà. Questo ci interesserebbe sapere, Presidente del Consiglio. Lei nella notte di variazione del DEF ha fatto un falso in bilancio. Se fosse una normale azienda avrebbe qualche tribunale che verrebbe ad indagare perché c'è un falso in bilancio che peserà sul futuro dei nostri figli, sulle future generazioni. Quello di cui lei sempre si riempie la bocca, Presidente del Consiglio. Ma dicevo, noi siamo demoralizzati perché il merito di queste questioni per lei affrontarle è impossibile. Probabilmente nella replica lei mi incomincerà a rispondere con offese, faccette buffe o quant'altro. Non ci interessa, Presidente del Consiglio. Beh, ecco, ne incomincia la prima dimostrazione. Ci interessa poco. Le dico però che le varie promesse che lei ha fatto, guardi, ho qua un elenco imbarazzante che mi sembra quasi inutile ripetere perché sarei noioso e racconterei quello che gli italiani già sanno. Però, le chiedo solo una cosa, ci perlomeno ci tolga il tormento di continuare a sperare nella promessa che arriverà sempre l'anno successivo. Come quella, per esempio, che i partiti dovevano uscire dalla RAI. Su quello però ha rispettato la promessa. Peccato che in quell'affermazione si era dimenticato di dire i partiti tranne il partito renziano. Lei è riuscito a fare ciò che nemmeno la prima Repubblica era riuscita a fare, monopolizzare la TV di Stato pagata con i soldi dei contribuenti e con le tasse dei contribuenti per farla semplicemente suo megafono. E addirittura quei pochi giornalisti liberi che ancora hanno il coraggio di dirle no, lei fa la fatua dicendo con loro non dovete parlare. Io sono convinto che gli italiani saranno molto più intelligenti di quanto lei creda. Credo che il quesito truffa che lei ha proposto sul referendum avrà un esito negativo per lei. E sono convinto che quello non solo bloccherà una riforma scritta male, fatta male, che danneggia il Paese, ma soprattutto manderà a casa un governo che sta facendo del male alla nostra gente. Grazie.